numero 5 ferro arricciacapelli automatico intelligente dotato di pulsante one touch per un'arricciatura veloce il motore si spegne automaticamente previene l'aggrovigliamento dei capelli quando rileva troppi capelli all'interno 6 impostazioni della temperatura per adattarsi a diversi tipi di capelli il design del ferro arricciacapelli in ceramica integrato e la ciotola in abs evitano scottature delle dita o del cuoio capelluto spegnimento automatico se non utilizzato per 10 minuti massima sicurezza se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 4 arricciacapelli automatico facile da usare non sono necessarie particolari abilità bastano pochi secondi per ottenere grandi onde onde medie onde sottili questo arricciacapelli è dotato di rivestimento in ceramica rilascia ioni negativi rendendo i capelli più lisci e più lucidi dopo l'arricciatura display lcd e 6 impostazioni del timer creazione di ricci perfetti in poco tempo se non viene utilizzato per 10 minuti si spegnerà automaticamente acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 3 ferro arricciacapelli automatico con rivestimento di protezione dal calore per evitare di bruciare le dita o il viso realizzato in ceramica garantisce un ulteriore cura dei capelli e protezione dal calore semplice da usare per ottenere onde sorprendenti la temperatura resta costante durante il processo di arricciatura in modo che i capelli siano riscaldati in tutte le direzioni e l'effetto finale sia più naturale e duraturo il ferro è dotato di 4 impostazioni di temperatura ottimo articolo puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 2 ferro arricciacapelli automatico design intelligente anti aggrovigliamento e rotazione inversa automatica il motore si spegne e inverte automaticamente i capelli quando rileva troppi capelli all'interno la larghezza dei capelli non deve superare i due centimetri sei impostazioni della temperatura rivestimento in ceramica schermo lcd e ricarica usb alta capacità della batteria integrata con una ricarica di tre ore il ferro arricciacapelli può funzionare fino a 60 minuti il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione numero 1 ferro arricciacapelli automatico senza fili nessuna abilità richiesta facile da usare con display lcd 4 impostazioni della temperatura pulsante per alternare la direzione del ricciolo ricci perfetti in poco tempo senza fili tempo di riscaldamento rapido riduzione dei danni ai capelli design a doppio isolamento termico il ferro è piccolo e portatile per arricciare i capelli ovunque ideale anche per i viaggi ottimo articolo trovi il link di questo articolo in descrizione grazie grazie grazie